Il modo loco in tonalità di re diesis è composto dalle seguenti note, tra re diesis e mi un semitono, tra mi e fa diesis un tono, tra fa diesis e sol diesis un tono, tra sol diesis e la un semitono, tra la il si un tono, tra il si e il do diesis un tono, tra il do diesis e il re diesis un tono. Ci sono in pratica quattro variazioni nella direzione a salire dei sharp, cioè dei diesis e sono re diesis, fa diesis, sol diesis e do diesis. Grazie a tutti.